Ieri sera l'investitura del primo cittadino di Cagliari e la conseguente nomina ufficiale della sua squadra di assessori, siglato un accordo tra i vigili del fuoco e l'amministrazione regionale per contrastare gli incendi. Circa mille lavoratori sono da quasi un anno senza stipendio e chiedono alla regione un intervento concreto su una situazione che si protrae da tanto tempo. In questi giorni a Sesto si sta ricordando la figura carismatica di Nesson Mandela. Ben ritrovati da Maurizio Medis, prima edizione nostro giornale come sempre rigorosamente in diretta. Ieri il neosindaco Paolo Truzzo ha giurato indossando la fascia tricolore con evidente commuzione e ha presentato ufficialmente la sua squadra di assessori. Ieri intorno alle 18 è iniziata l'era del neosindaco Paolo Truzzo. Col suo insediamento si è dato vita anche al primo consiglio comunale una riunione formale che ha avuto come scopo la presentazione ufficiale degli assessori. Il primo cittadino cagliaritano visibilmente commosso ha presentato la sua squadra. Vice sindaco Giorgio Angius con la delega alla pianificazione strategica e allo sviluppo urbanistico. Ritta Dedola, pubblica istruzione. Gabriella Deida, lavori pubblici. Alessandro Sorgia, attività produttive e turismo. Paolo Spano, alla pubblica sicurezza e sport. Paola Piroddi, alla cultura spettacolo e verde pubblico. Alessio Mereu, alla mobilità e politica per la casa. Viviana Lantini, politiche e sociali. E Alessandro Guarracino, all'igiene del suolo. A presiedere la seduta è stato Matteo Lecisco Cortu, in qualità di consigliere anziano. Dopo la presentazione dei responsabili dei vari assessorati, sono iniziati i lavori con l'analisi dell'unico punto all'ordine del giorno, ovvero la convalida degli eletti tramite approvazione della prima delibera firmata dal sindaco Truzzo. Subito dopo, il sindaco del capologo Sardo ha indossato la fascia tricolore e ha prestato giuramento. E' stato infine eletto presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco. E adesso sentiamo le sensazioni del primo cittadino Paolo Truzzo nell'intervista di Antonello Lai, nella sua prima uscita nella nostra intervista di Telecosta Smeralda. Paolo Truzzo, dopo la promulgazione della Giunta, come la potremmo definire? E' una Giunta che ha unito il profilo politico e quello delle competenze. Una Giunta di buon livello, a mio parere, che cercherà di dare ai cittadini cagliaritani le risposte che attendono. Ci sono degli assessorati nuovi? Più che degli assessorati nuovi, ci sono delle nuove deleghe che abbiamo cercato di dare in luce anche con l'idea che noi abbiamo di trasformazione della città. L'assessorato all'urbanistica è diventato quello allo sviluppo urbanistico, perché pensiamo che l'urbanistica sia lo strumento attraverso il quale disegnare lo sviluppo della città. Abbiamo inserito la delega per le politiche del mare, perché pensiamo che la nautica, la portualità, la vera, siano tutti elementi importanti per una città come Cagliari, se non addirittura fondamentali. Abbiamo ripristinato l'assessorato all'ambiente, perché l'ambiente l'ha pensato a 360 gradi e non può essere solo l'igiene del suolo e la prevenzione dell'inquinamento e abbiamo anche voluto dare un riconoscimento, un elemento importante della comunità cagliaritana e dell'economia cagliaritana, che è quello dell'università e quindi abbiamo individuato anche un assessore che abbia il compito di mantenere i rapporti con l'università e con gli studenti universitari. C'è anche un assessorato che pensa alla sicurezza della città? Avevo dimenticato anche la sicurezza, c'è un assessorato che ovviamente deve ripristinare quelle condizioni di prevenzione soprattutto della sicurezza e di aumento e accrescimento della percezione di sicurezza dei cittadini. Contento comunque di quello che ha realizzato? Contento, poi ovviamente con tutte le cose si può sempre fare meglio e noi lavoreremo per fare il meglio possibile. L'emergenza attualmente è quella dell'immondezza? L'emergenza è quella sicuramente dei rifiuti con grossi problemi nella parte del centro storico, nell'ultima zona in cui è partito il porta a porta e poi l'altra questione dei cumuli dell'abbandono della spazzatura in periferia. Stiamo lavorando, già oggi c'è solo squadra lavoro per rimuovere i vari cumuli, stiamo lavorando anche su un lavoro di pulizia straordinaria in questi giorni al Guardiere Marina e insomma. L'auto ha preso fuoco durante il tragitto e quando l'autista ha bloccato la corsa sulla corsia di marcia insieme al trasportato, sono usciti dall'abitacolo ormai saturo di fumo. Il passeggero appena sceso è stato investito da una macchina che li seguiva. L'uomo è stato urtato violentamente ed è rimasto gravemente ferito. Il singolare incidente è avvenuto ieri in notte dopo le 22 sulla statale 131 all'altezza dei chilometro 70 tra Uras e Terralba. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, la polizia stradale e un'ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato al punto soccorso dell'ospedale di Oristano. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute. Sinergia anche quest'anno tra i vigili del fuoco e l'amministrazione regionale per cercare di arginare il fenomeno degli incendi che anche quest'anno stanno creando grossi problemi. Signor Prefetto, la lotta agli incendi è quanto mai d'attualità in Sardegna in questi giorni. Avete deciso di incontrare le varie parti coinvolte nella tutela del patrimonio boschivo dell'Isola. Si tratta di un'iniziativa, questa che oramai si ripete da qualche anno, cioè quella della collaborazione diretta per gli incendi boschivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con l'amministrazione regionale. La competenza per gli incendi boschivi, come dicevamo, appartiene appunto alla Regione, ma il contributo che i vigili del fuoco possono dare nella direzione soprattutto degli incendi cosiddetti da interfaccia, cioè quelli che sono più prossimi alla popolazione e che quindi potrebbero portare a degli eventi di vera protezione civile, evidentemente assume un valore molto importante. Purtroppo la campagna antincendi è iniziata con dei colpi molto importanti contro la natura qua in Sardegna, ma l'attenzione è senz'altro molto forte, molto destra. Tre provvedimenti che adotterete? Provedimenti innanzitutto, come dicevo, questa collaborazione diretta, quindi la presenza nella sala operativa della Regione di un rappresentante dei Vigili del Fuoco, ma la disposizione attraverso appunto questo stanziamento che è stato stabilito dalla Regione in circa 400.000 euro, di nuove dotazioni per quanto riguarda il personale, oltre che del pagamento naturalmente delle ore di straordinario che il personale dovrà impiegare proprio nella sua attività di lotta agli incendi boschivi. Inoltre, così come per quanto riguarda gli altri anni, le quattro prefetture della Sardegna, insieme naturalmente alla Regione che ha adottato il solito piano regionale antincendio, hanno adottato a loro volta un piano che riguarda la propria provincia evidentemente, di prevenzione durante le giornate ad alto rischio, quelle che vengono individuate dal centro funzionale regionale come giornata ad alto rischio, da parte di tutti gli organi dello Stato, dalle forze di polizia, gli stessi Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto, come attività di segnalazione dell'insorgenza di un incendio che sia anche soltanto un incendio boschivo, soltanto naturalmente legato al fatto del danno ambientale, oltre che naturalmente del danno umano nel caso dovesse verificarsi l'evento calamitoso. E poi, naturalmente, il coordinamento delle attività laddove l'evento dovesse diventare un evento di protezione civile, quindi vada a toccare direttamente la popolazione. Un appello da parte del Prefetto per tutte le persone che hanno a che fare con lavori in campagna che purtroppo talvolta sono letali per il bosco. Io direi innanzitutto di porre la massima attenzione, così come previsto dal piano regionale antincendi, ma aggiungere anche un'altra cosa. Dobbiamo immaginare come il patrimonio ambientale sia un patrimonio di ogni cittadino, non un patrimonio generico che non si sa bene a chi appartenga. Appartiene a tutti noi e tutti noi lo dobbiamo tutelare, con maggiore attenzione e segnalando tutte le situazioni di insorgenza di incendi. Soltanto in questo modo riusciremo a fare quel salto culturale che ci porterà e ci porterebbe ad avere la possibilità di una lotta antincendi veramente molto efficace. Allarme nel compendio ittico di Sena a Rubia di Arborea. Da alcuni giorni è in atto una grave moria scusate di pesci nello stagno gestito dalla cooperativa dei pescatori Sant'Andrea. A lanciare l'allarme è stato il presidente della cooperativa dei pescatori Alberto Porcu che ha chiesto l'immediato intervento della regione. L'ultima moria era avvenuta una decina di anni fa e aveva causato ingenti danni al patrimonio ambientale e aveva messo in ginocchio i pescatori. L'economia dell'isola cresce ma si lascia dietro tante problematiche e causa anche della poca disponibilità nella spesa del cittadino. Vediamo. Una Sardegna che cresce ma con molte zone d'ombra date soprattutto dalla continua diminuzione della capacità di spesa dei sardi. Potrebbe essere sintetizzata così la relazione che Confindustria ha dato ieri alla presenza della ministra per il Sud Barbara Lezzi e del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nel consueto incontro dedicato alle analisi di mezz'estate. Un check-up mezzogiorno condotto da Confindustria, SRM, studi e ricerche per il mezzogiorno. Il Sud, come riporta la nota Confindustria, vede affievolire la sua capacità di spinta nei primi mesi del 2019 e i segnali di frenata, già ampiamente visibili a fine 2018, rischiano di diventare veri e propri arretramenti in Sardegna a fronte di una crescita dell'occupazione pari al 4% del primo trimestre 2019 sul primo trimestre 2018 e ad una diminuzione della disoccupazione pari almeno 5,5% nello stesso periodo, continua la decrescita del PIL pro capite. Nel 2017, fatto 100, il dato nazionale italiano, la Sardegna ha presentato un valore pari a 71,2, inferiore al 71,4 del 2016 e dal 74,8 del 2012. Il valore aggiunto dell'industria manifatturiera della Sardegna ha fatto registrare nel 2016 un valore pari a 1,7 miliardi di euro in crescita rispetto al 2015, ma ancora notevolmente inferiore ai livelli pre-crisi. Secondo l'analisi di Confindustria, anche un saldo commerciale della nostra regione nel 2018 continua ad essere negativo, meno 2,4 miliardi di euro. La Sardegna risulta essere la regione dove diminuisce maggiormente il consumo di energia elettrica da segnalare, però il dato relativo all'aumento delle imprese attive è più 0,1% nel primo trimestre 2019 rispetto al primo trimestre 2018 contro una diminuzione nazionale del meno 0,2%. Aumentano anche le società di capitali, ma la Sardegna è la regione del mezzogiorno che fa registrare la crescita minore, più 4,4% contro una media delle regioni meridionali pari al 5,8%. Due fratelli di 23-28 anni hanno creato scompiglio tra i fedeli turisti che affollavano le strade di Mamoiada per la festa di San Sebastiano. Ubriachi e la richiesta dei carabinieri di smontare da cavallo ad esibire i documenti di identità hanno continuato la loro corsa tra le strade del paese barbaricino. Sul posto è intervenuta una pattuglia del radiomobile della compagnia di Nuoro e i colleghi di Mamoiada che hanno identificato i due. Entrambi i pregiudicati sono stati denunciati per resistenza pubblico-ufficiale, ubriachezza e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Seconda parte del nostro giornale sono diretta a far luce su una serie di irregolarità che potrebbero essersi verificate nell'ambito di alcuni concorsi e le indagini della Procura di Sassari. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha eseguito questa mattina i decreti di perquisizione verso cinque persone, dirigenti dei dipartimenti di giurisprudenza e di scienze economiche aziendali e docenti dell'Università degli Studi di Sassari. I militari del nucleo di pulizia economico-finanziaria sono stati impegnati fin dalle prime ore del mattino. Le attività si sono svolte nelle abitazioni degli indagati nei locali dell'Università con l'obiettivo di acquisire fonti di prova. Le ipotesi di reato sono la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex articolo 353 bis codice penale, la turbativa della gara per l'aggiudicazione del bando ex articolo 353 del codice penale. Primo servizio della seconda parte del nostro giornale. Problematiche del lavoro si sono radunati sotto il Consiglio regionale i lavoratori dell'Aias che non ricevono lo stipendio da ben 11 mesi. Chiedo un intervento concreto da parte della Regione. Sono i lavoratori dell'Aias, buongiorno. Che cosa state aspettando? Noi stiamo aspettando le decisioni della Regione Sardegna rispetto agli stipendi 11 mesi che non vengono retribuite ai lavoratori. Noi chiediamo alla Regione, ci sono i nostri rappresentanti in questa fase che stanno parlando con la politica, per far sì che la famiglia Randazzo paghi gli stipendi a questi lavoratori che sono in forte crisi. Molti di questi sono in debito con le banche, hanno i mutui che di fatto devono essere pagati ma purtroppo proprio perché non vengono retribuiti i stipendi rischiano di perdere la casa. È una situazione veramente drammatica che coinvolge quante persone? Più di mille persone che non ricevono. L'ultimo stipendio è stato l'80% di marzo, ho ricevuto il 20 maggio, per cui sono 60 giorni quasi senza vedere un centesimo, quindi non si può andare avanti così, la gente non ce la fa più, a parte che mancano 10 mensilità oltre, quindi non è possibile. Il contenzioso è tra la famiglia Randazzo che gestisce i vari centri dell'Aias e la Regione. la Regione dice di aver pagato quello che doveva retribuire all'azienda, mentre invece l'Aias dice che non è assolutamente così. Come stanno le cose veramente? Come stanno le cose? Stanno di fatto, la verità sta sempre al centro, comunque sia è il lavoratore che è l'unica verità che conosciamo che non ha preso i danari. Allora noi chiediamo alla Regione di farsi carico di questo problema, perché 1200 famiglie in tutta la Sardegna sicuramente oggi non sanno come mettere insieme il pranzo e la cena. Questo deve essere il vero problema che i politici devono porre e risolvere. Poi che il Randazzo o l'Aias non abbiano i danari in questo momento, la politica deve comunque, pare, prendere una decisione e risolverla. In questi giorni Sestu sta rendendo omaggio al premio Nobel Nelson Mandela, figura emblematica contro la lotta all'apartheid. Vediamo. E' iniziata ieri a Sestu, nella Casa Ophelia, in via Parocchio 88, la sesta edizione del Mandela's Day, organizzato da Intercultura, dall'associazione La Rosa Roja con i patrocini di Sestu, ha avuto l'evento nella presentazione della mostra fotografica ieri alle 18, per concludere poi con la presentazione del libro Rosa Negra di Amilcar Cabral, presentato da Francesco Marrocco e da Sena Montero. Alla fine è seguito un dibattito e poi conclusione con la banda sbandata che ha rallegrato la serata. Oggi, dalle 19, sfilata di moda del giovane stilista Sanson Seri della Costa d'Avorio, con la collaborazione delle attività commerciali di Sestu e degli obbisti. Alla fine esibizioni di ballo afro con Brian Douglas e Daniela Soju e l'animazione conclusiva con Mamadun, Wenge e Mo Marghei. Domani alle 20 inizierà poi tutta la parte dedicata alla commemorazione del Mandela's Day, la presentazione e dibattito del libro sulla Rosa Negra, sempre di Amilcar Cabral, e alle 18 alle 19, il mercatino degli obbisti. Benvenuti a tutti, siamo quindi nel pieno della manifestazione Nelson Mandela, quindi Mandela Day Sardegna 2019, che è giunta alla sesta edizione e abbiamo dato inizio proprio ieri, 18 luglio, che coincide con il compleanno di Nelson Mandela, della nascita di Nelson Mandela. La Guardia delle Finanze di Cagliari ha scoperto due aziende attive nel settore del trasporto di merci su strada che hanno nascosto al fisco ricavi per circa 150 mila euro, presentando dichiarazioni non veritiere. L'indagine è partita in seguito al fermo di due dei mezzi delle ditte. Le fiamme gialle hanno approfondito i controlli sulle posizioni reddittuali delle due imprese. In sospettire i finanziari il fatto che venissero dichiarati costi e ricavi praticamente identici, con la conseguenza che il margine di profitto risultasse estremamente ridotto per ciascuna annualità analizzata. A seguito da alcune verifiche sulla documentazione contabile, i militari hanno scomperto che le due aziende non avevano dichiarati ricavi per 133 mila euro. Adesso la consuetta zona franca che vi propone la seconda parte della storia di Roberto Ipovedente che lotta con tutte le sue forze per scongiurare uno sfratto imminente. Il problema diciamo che io avendo lo sfratto non è tanto perché sinché avessi questa cifra che mi consente di pagare ciò che c'è da pagare in un appartamento, almeno avere il minimo dove stare, un tetto sopra la testa io. Mentre l'assente sociale proprio mi ha detto no, assolutamente, la casa serve cercare lei, facendomi uscire quasi di mal modo, ma meno male che sono stato mantenuto in nervi e saldi perché sarebbe potuta finire peggio. Mamma ti aiuta per quello che può? Esattamente, mamma più che venire a farmi qualche pulizia, più che diciamo quando avevo la carta REI, ho avuto anche la carta REI che era di 187 euro al mese, le bollette me le pagava mamma e io pensavo a mangiare. Quindi già era il periodo che non stavo pagando l'affitto perché avevo finito tutte le risorse economiche per poter vivere e poi anche non solo le bollette ma mi sono state pagate anche visite a pagamento nonostante avessi l'esenzione del ticket, l'AS02 diciamo come mi rispetta, come mi ha detto il medico di famiglia. Pensare che questo ragazzo, Roberto, adesso lo facciamo sintetica, era diventato anche benestante, cioè dall'incidente stradale aveva percepito un buon risarcimento, quanto avevi percepito? Avevo percepito 1 milione 120 mila euro, quindi poteva avere il mondo, poteva avere tutto ciò che una persona normale che quei soldi, neanche un operaio se li sogna, se li può sognare solo un imprenditore, ma un operaio... E uno si chiederà, e questi soldi dove sono finiti? Un affare sballato? Sì, ho trovato un amico che mi ha convinto ad aprire una società di cui non faccio nomi per privacy e praticamente io, essendo ipovedente, ho dovuto fare la delega e mi sono trovato... Con il conto svuotato. Esatto, con il conto svuotato. L'unica cosa, diciamo, tra virgolette, perché io dico sempre la verità, è stato avere fatto un investimento, diciamo, bancario, che permette 5 mila euro al mese da parte per ogni evenienza che mi potesse capitare nella vita. Contare 25 mila euro? Esatto, sì, mi sono rimasti solo quelli... Che sono serviti per pagare gli affitti? Gli affitti è mangiare, fare una vita normale che fanno tutti e purtroppo quasi ogni giorno pasta, cioè va a variare come alimentazione, quindi anche avendo problemi di salute, mal di stomaco, mal di pancia, congestioni e quant'altro. E poi sono finiti anche quelli. Sì, sono finiti anche quelli e adesso mi trovo solo con la carta di cittadinanza che mi hanno concesso del valore di 780 euro mensili perché lì si era sotto zero. Roberto, un appello, ti manca di far quello perché molte soluzioni non ne vedo. Gli studenti sociali ti hanno detto che devi sbrigare da solo, devi trovarti una casa, loro magari ti aiuteranno, io questo non te lo so dire, se è vero o non è vero, oppure devi pagare il corredito di cittadinanza, ma mi sembra una cosa un po' in salita. Tu volevi fare un appello? Guardi, guardate, io non chiedo tanto, anche il monolocale è anche da 40 metri quadri, 50 metri quadri, il minimo, indispensabile, perché bene o male, la reddito messa verso il locale vuoto, dove poter mettere le mie due cosettine che mi sono rimaste, almeno quello, non chiedo di più, non chiedo fuochi d'artificio, il minimo, che una persona abbia un tetto sopra la testa, niente di più, niente di meno. È tutto, grazie per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie.